Oggi tutti e tre nuovi presidenti dei tre consorsi del mondo prosecco sono riuniti, invitati da Confindustria Treviso. Abbiamo accolto tutti e tre l'invito favorevolmente perché è un momento di confronto. Ora, io sono diventato come loro presidente da poco, però ho un'idea. La mia idea sarà di favorire il dialogo interno alla denominazione con Eliano Valdobbiadene. L'abbiamo un po' abbandonata negli ultimi anni, proprio incontrarci spesso e volentieri per parlare di noi, per capire chi siamo e dove vogliamo andare, perché da lì nascono le idee e si sentono le esigenze dei produttori, ma si colgono anche le opportunità di sviluppo. Il secondo mio obiettivo è favorire il dialogo con gli altri consorsi. Per questo motivo sono qua oggi e volentieri, perché si possa capire se ci sono delle attività, delle cose, delle opportunità, dei lavori che possiamo condividere. Perché a volte siamo ripetitivi fra noi stessi. Se ci sono, le cogliamo. Però dobbiamo fare una cosa, la prima, la più importante, riconoscere reciprocamente i nostri valori. Una volta fatto questo si può iniziare un percorso, vediamo se funziona, vediamo se avrà un seguito, dipenderà molto da quanti no sapremmo dire. Forse sono finiti gli anni dei sì, forse dovremmo dire qualche no. Cosa vuol dire qualche no? A cosa sono disposto a rinunciare per favorire un bene comune in sviluppo nei prossimi anni? Proviamoci, se ci riusciamo bene, se no, pazienza.